Musica Prima vorrei introdurvi con un paio di slide chi è Arriba perché non la conoscesse Arriba è leader mondiale nelle soluzioni di spend management e di business network è stata acquisita a ottobre del 2012 da SAP un'acquisizione strategica costata 4 miliardi e mezzo circa di dollari il motivo principale dell'acquisizione è proprio il business network dopo andremo a vedere che cos'è il business network come ci aiuta nella gestione dei costi nella riduzione dei costi e anche nell'aumento delle performance e in alcuni casi anche come riesce ad aiutarci per apportare risorse addizionali il business network di Arriba conta oggi più di un milione di fornitori che cos'è un business network? intanto ve lo accenno dopo lo vediamo meglio tanto per darvi un'idea un business network un network è facebook, linkedin sono le comunità che girano su amazon su tripadvisor quindi il network è la possibilità di essere connessi di scambiarsi informazioni condividere contenuti e in alcuni casi come nel nostro nel caso del business to business anche di integrare processi e qui parliamo di processi tra le aziende buyer e le aziende fornitrici e quindi introduciamo appunto la collaborazione tra aziende vedete che nelle prime 2000 aziende al mondo nelle global 2000 fortune gli sprechi che ci sono nella collaborazione tra aziende buyer e aziende fornitrici è valutato in circa 650 miliardi di dollari la prima voce vedete è gestione della collaborazione ancora manuale e basata ancora su carta e poi vedete tutta un'altra serie di voci che spesso ne sono la conseguenza quindi alti costi operativi costi alti nella supply chain spreco di risorse e andando a migliorare e ad integrare i processi con i nostri fornitori andiamo ad indirizzare a ridurre questi costi e ad aumentare quindi anche le performance dell'azienda questo è uno studio McKinsey interessante ed è abbastanza recente fino a 2011 che ci dice come le aziende networked cioè le aziende collegate ad un network hanno il 50% in più di probabilità di essere leader di mercato e di avere profitti più alti il concetto del network ve l'ho anticipato prima è quello che abbiamo che viviamo nella nostra vita privata con strumenti come Google per la ricerca come Amazon e eBay come Facebook Twitter e LinkedIn quindi immaginate tutte queste cose riportate nel business to business quindi nel rapporto con i nostri partner e ovviamente adattato al business to business la richiesta è alta vedete qui di soluzioni di questo tipo quindi vedete una collaborazione più stretta con i propri fornitori tutto questo basato anche sul cloud che significa rapidità di implementazione time to value rapido quindi ritorno sull'investimento estremamente anche rapido allora applichiamolo alla nostra area all'account paypal alla contabilità fornitori tipicamente un processo manuale richiede la ricezione delle fatture richiede che qualcuno usci lavori fisicamente che qualcuno faccia la data entry che poi questi dati vengano passati all'IRP tipicamente a SAP appunto tutto questo è nella stragrande maggioranza dei casi su carta poi dopo vedremo altri benchmark interessanti che ci dicono quanto nelle aziende a livello mondiale siano poche le transazioni elettroniche quanto ancora la maggioranza delle aziende anche tra le più grandi abbiano ancora gran parte di questi processi gestiti manualmente sono questi 150 miliardi di sprechi che solo nelle 2.000 aziende più grandi del mondo vengono calcolati quindi poi il data entry dopo c'è tutta la gestione delle eccezioni qualcuno deve scoprire intanto deve scoprire e capire dove ci sono errori dove ci sono eccezioni poi queste vanno indirizzate alle persone giuste in azienda tutto un grosso effort che include poi ovviamente anche i colleghi dell'area procurement che dovranno validarci le eccezioni e gli errori tutto questo poi significa anche e questo concetto adesso lo accenniamo e dopo lo rivediamo discount e contract saving la possibilità di avere ulteriori sconti sui tempi di pagamento in Italia viene utilizzato ancora molto poco ma viene utilizzato moltissimo negli Stati Uniti e molto nel nord Europa e uno strumento avere uno strumento che ci integra i processi diciamo del ciclo passivo con i nostri fornitori ci è abilitante a poi poter negoziare ulteriori sconti sui termini di pagamento questo è quello che ci dicono alcuni analisti vedete che quasi l'80% ancora delle transazioni a livello mondiale vengono fatte ancora su carta e comunque manuali con tutto quello che ne consegue anche visibilità limitata e controllo limitato un numero elevato di eccezioni da gestire sulle fatture la media dice 15% che è un numero elevato in alcuni casi questa percentuale è anche molto più alta difficoltà ad essere compliant con le normative fiscali tutte queste inefficienze ovviamente impattano anche sul nostro DPO e sul DSO dei nostri partner e poi questo è un dato anche molto importante vedete 9.4 milioni di dollari in vengono definite dispersioni sui contratti ho un altro benchmark interessante dopo che ci dice appunto che questa è una media significa 0,94% di dispersioni sui contratti e quasi quindi l'1% sulla nostra spesa su quello che spendiamo sono sono cifre importanti se lo rapportate a quanto spende la vostra azienda applicate questa percentuale sono numeri interessanti quindi parlavamo all'inizio il tema all'inizio era gestione e riduzione dei costi e miglioramento delle performance qui abbiamo tutte le aree che ci interessano o comunque aree interessanti per intervenire ecco questi sono alcuni benchmark a cui facevo riferimento prima vedete il primo punto ci dice a livello mondiale la media delle fatture elettroniche delle transazioni elettroniche è nelle aziende in media il 25% quindi bassa tipicamente nel manifatturiero tipicamente sono connessioni punto punto con i fornitori più importanti tutto il resto tutti gli altri fornitori sono scoperti gli addetti necessari per gestire le fatture in un processo manuale la media ci dice che pro capite un addetto riesce a gestire circa 10.000 fatture all'anno con un sistema elettronico i best in class stanno a più di 30.000 con Arriba in alcuni casi siamo arrivati a 80.000 fatture sicuramente più di 40.000 fatture pro capite all'anno quindi già qui si comincia a intravedere che tipo di miglioramenti si possono avere e riduzioni di costi si possono avere l'utilizzo del business network l'integrazione dei processi con i nostri fornitori questo tipo di processi ci può portare a processi del ciclo passivo touchless che definiamo noi o a tocco zero in media vedete nel mondo sono al 59% i best in class all'85 con Arriba arriviamo al 98% eccezioni 17% best in class 12% Arriba 2% questo è il tema degli sconti allora anche a livello nel nord Europa che utilizzano che mentalmente sono portati per cultura a questo tipo di negoziazioni sui termini di pagamento in realtà poi non riescono a catturare questi tipi di sconti perché il processo di approvazione delle fatture è tendenzialmente più lungo del termine di pagamento per ottenere gli sconti concordati quindi ci sono degli sconti potenziali ottenibili che non si riescono ad ottenere perché il processo di approvazione è più lungo quindi un tema diventa prendere quegli sconti catturare quegli sconti e poi quelle dispersioni sui contratti che vi dicevo all'inizio vedete in media è lo 0,94% il best in class è lo 0,48% sono cifre veramente importanti anche per il best in class con Arriba scendiamo quasi allo 0% questo è un percorso ideale per arrivare allo 0 touch il gradino più basso è quello dove tutto è gestito manualmente tutto è ancora su carta il gradino successivo è e questo già si trova in molti casi dove c'è un sistema di scansione per le fatture che arrivano entranti che non è la soluzione vedete ci sono altri due step dopo perché quando io scansisco una fattura io semplicemente velocizzo la registrazione ma tutti gli errori che ci sono li devo comunque valutare gestire e innescare un workflow di approvazioni successivamente quindi quello che noi in realtà andiamo a valutare vogliamo valutare è la durata dell'intero ciclo da quando la fattura viene creata dal fornitore a quando viene approvata e messa in pagamento quindi il terzo step è il paper free e l'ultimo è quello del zero touch quel 98% che abbiamo detto che abbiamo detto prima dove arriviamo alle oltre 40.000 fatture per FTE per addetto pro capite all'anno ovviamente i costi decrescono come arrivare a questo intanto vedete un po' di numeri sugli aumenti di produttività sui saving che si possono ottenere e vedete anche in fondo a destra in rosso anche i benefici per i fornitori perché questo processo porta benefici sia all'azienda buyer che all'azienda fornitrice e peraltro questo è essenziale perché un progetto del genere possa avere successo è essenziale che i fornitori trovino grandi benefici nell'adozione di uno strumento del genere nell'essere parte di un business network di questo tipo è questo il motivo per cui oggi siamo a oltre un milione di fornitori sulla riba network e perché entro il 2015 arriveremo a 2 milioni e perché il transato sulla riba network che oggi è di più di 400 miliardi di dollari arriverà a un trilione nel 2015 perché i benefici anche per i fornitori sono elevati e importanti la riba network qualcosa l'abbiamo già accennato ma quali sono le caratteristiche fondamentali intanto è uno strumento open cioè è indipendente dagli standard tecnologici qualunque tipo di standard tecnologico può essere utilizzato per connettersi alla riba network quindi andiamo dal banale portale che indirizza una percentuale di fornitori quelli con volumi di fatture abbastanza bassi fino a integrazioni estremamente strette con il sistema IRP del fornitore con tutta la scala di grigi che c'è in mezzo e con differenti linguaggi che ogni fornitore può scegliere e che sulla scelta del quale la nostra struttura di oltre 400 persone li aiuta a individuare il miglior modo di integrarsi alla riba network è un'unica connessione quindi una volta che un'azienda buyer o un fornitore si collega alla riba network è pronto per transare con chiunque altro e poi bisogna soltanto aprire il canale come si fa con facebook e con linkedin e si decide di connettersi a qualcun altro e si è pronti per transare quindi è importante fare riferimento anche all'oltre milione che è già presente perché buona parte probabilmente dei nostri fornitori sono già sulla riba network che transano con qualcun altro e quindi sono pronti immediatamente per transare con noi altra cosa importante non è soltanto un vettore per quanto un vettore voluto di documenti elettronici è intelligente che significa che è intelligente che va a leggere nei documenti elettronici e nel momento in cui il fornitore intanto innesca dei meccanismi poi di creazione di altri documenti per cui dall'ordine il fornitore crea automaticamente la conferma d'ordine l'avviso di spedizione e crea automaticamente anche la fattura ma non solo lo strumento la riba network guida il fornitore nella creazione della fattura quindi immediatamente gli individua gli errori contenuti nella fattura che sta creando quindi il fornitore a questo punto crea una fattura corretta questa arriva nel vostro sistema IRP ed è nel 98% dei casi già pronta per essere pagata senza che nessuno debba intervenire per gestire eccezioni o errori eccolo come funziona ve l'ho accennato sostanzialmente già al momento della creazione gli errori vengono bloccati e il fornitore riceve la lista degli errori che lui sta creando che lui sta commettendo e non riesce a creare la fattura se non corregge quegli errori questo è anche importante per il fornitore perché vuol dire che il fornitore una volta che è riuscito ad inviare la fattura è sicuro che la fattura sia corretta quindi sa che verrà approvata presto e quindi sa che verrà pagato anche prima tendenzialmente la logica vuole che se vengono approvate prima le fatture tendenzialmente vengono pagate anche prima ovviamente tutte le informazioni che noi vogliamo ci siano su una fattura e questo anche riduce poi gli errori e le eccezioni verranno contenute nelle nostre fatture elettroniche perché sono tutte cose che configuriamo noi possiamo configurarle per fornitore o per gruppi di fornitori quindi saremo sicure che le fatture arriveranno come noi le vogliamo con le informazioni che dentro ci devono essere vedete ecco in alto a sinistra per esempio c'è ci sono già c'è il discorso dei termini di pagamento quindi in questo caso specifico i termini di pagamento erano 45 giorni quelli standard però era già previsto anche nel caso del pagamento a 30 o addirittura a 20 con le percentuali collegate ai pagamenti anticipati come si può approcciare un progetto del genere ovviamente è un progetto che si sviluppa in diverse wave tipicamente 2-3 anni e si affronta in parallelo dove partendo dai fornitori che sono già eventualmente sulla riba network dai fornitori più importanti per voi questi saranno i primi che verranno abilitati dalla nostra struttura di supplier enablement da quelle 400 persone a cui facevo riferimento prima e nel frattempo però in parallelo si può partire con una scansione di tutto il resto e gradualmente la scansione che comunque verrà tutto quello che verrà scansito verrà comunque messo sulla riba network per dare visibilità al fornitore dello stato della fattura e dello stato del pagamento gradualmente la parte di scansione si andrà a ridurre ed andrà a aumentare la parte di fatture elettroniche pure questi alcuni vantaggi sia nel mondo del manifatturiero caterpillar sia nel mondo dei servizi Deutsche Bank due progetti globali due progetti importanti con numeri dietro importanti vedete che i benefici più o meno anche se sono due mondi completamente diversi sono più o meno gli stessi anche i presupposti sono simili vedete in un caso addirittura otto sistemi SAP sottostanti nell'altro caso sette sistemi SAP sottostanti vedete nel caso di caterpillar 75% di riduzioni di costi nell'ambito della gestione delle fatture di tutto il ciclo vedete anche aumento questo nel caso di caterpillar del controllo sulla compatibilità fiscale a livello mondiale includendo anche la Cina tutte cose che vengono fatte con degli automatismi e dei meccanismi di controllo è la parte intelligente a cui facevo riferimento prima non solo va a leggere nei documenti anzi quando va a leggere nei documenti fa anche queste verifiche nel caso di Deutsche Bank invece vedete che c'è un business process outsourcer che sostanzialmente gestisce lo share service utilizzando la Riba Network Deutsche Bank ha rinegoziato il contratto con il business process outsourcer e ha ridotto questi costi di oltre il 30% per l'esattezza circa il 35% e qui alcuni vantaggi invece dei fornitori come vi dicevo prima è fondamentale che anche i fornitori abbiano grossi vantaggi partiamo da quelli a destra ridotto il costo di processo dall'ordine alla fattura anche in questo caso del 75% ricevo un ordine elettronici ci sono dei meccanismi per creare le conferme d'ordine le avvisi di spedizione per elaborare la fattura fino al dettaglio del singolo line item la verifica del controllo della correttezza della fattura è automatica e guida automaticamente il fornitore quindi i costi anche per loro si riducono drasticamente per la gestione di questo tipo di processo riduzione del DSO anche perché come vi dicevo prima se una fattura è già corretta arriva già corretta viene approvata prima e quindi tendenzialmente viene anche pagato prima e poi ovviamente anche incremento delle vendite maggiore soddisfazione da parte dei clienti perché incremento delle vendite perché le aziende buyer che sono sulla riba network tenderanno a privilegiare i fornitori che sono già sulla riba network rispetto a quelli che ancora non ci sono altri nomi importanti vedete anche qui dividiamo tra buyer e seller che nelle varie industrie hanno adottato le nostre soluzioni e sono collegate alla riba network ve lo lascio un attimo scorrere in modo che ognuno possa trovare riferimenti nella propria industria e questo andare a integrare questo tipo di processi e a ridurre questi costi è solo l'inizio vedete che dopo c'è anche si arriva anche a impatti sul working capital la contract compliance l'abbiamo visto anche dai benchmark la compliance fiscale l'abbiamo già vista vi voglio solo dare a parte qualche altro riferimento di qualche altro nome importante ma anche dire dare un accenno su anche lo strumento per collaborare sul cash flow con i fornitori l'abbiamo accennato al tema quindi negoziare sconti aggiuntivi sui termini di pagamento sui eventuali pagamenti anticipati e questo da sostanzialmente riduce anche i rischi della supply chain perché siamo noi che finanziamo i nostri partner ma questo ci porta anche grossi ritorni perché vedete in media i nostri clienti hanno un ritorno medio sull'anno del 18% questo si porta dietro ovviamente tutta una strategia un progetto aggiuntivo che in genere si porta dietro anche il miglioramento del DPU quindi sono progetti complessivi aggiuntivi rispetto a quello che abbiamo visto adesso ma quello che abbiamo visto adesso è abilitante a poter pensare di approcciare un progetto di questo tipo l'impatto di questo tipo di soluzione e di questo tipo di progetti anche qui vedete che è abbastanza importante vi faccio notare per ora solo il titolo 2 milioni ogni miliardo di spesa ecco qua adesso andiamo a ricapitolare tutti i vantaggi processi più o meno si risparmia un milione per ogni miliardo di spesa discount 2 milioni per miliardo working capital 3 per 1 e compliance 4 per 1 stiamo applicando tutto dopo essere arrivati allo zero touch siamo a circa 10 milioni ogni miliardo di spesa quindi parliamo di numeri davvero importanti e lì accanto ci sono i riferimenti delle aziende che l'hanno già fatto aziende importanti grandi che l'hanno fatta a livello globale e sotto poi ci sono anche le fonti dei benchmark a cui si fa anche riferimento sul nostro tavolo trovate anche il report di un altro analista che è recentissimo di credo un mese o due mesi fa al massimo che fa un'analisi dettagliata dei risparmi che si hanno applicando un electronic invoicing intelligente quindi vi invito poi a prenderlo